I militari dei comandi provinciali della Guardia di Finanza e dei Carabinieri di Reggio Calabria stanno dando esecuzione a un provvedimento emesso dalla sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria che dispone all'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca di beni per un valore complessivo stimato in oltre 160 milioni di euro riconducibili a un imprenditore regino operante nel settore edile. Secondo quanto emerso dalle etagini, il proposto avrebbe avviato e consolidato nel territorio il suo ruolo di imprenditore facendo leva sullo sostegno di storiche locali di Andrangheta, da prima su quella della Tella e dagli anni 2000 in avanti su quella di De Stefano. La prima, eseguita dal comando provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, ha fatto luce su un sistema di attività criminali coltivate da imprenditori regini che, sfruttando l'appoggio di cosche cittadini, sarebbero riusciti ad accumulare in modo illecito enormi profitti. Le indagini sono culminate nel 2018 con l'esecuzione di provvedimenti restrittivi personali nei confronti di quattro soggetti. Il proposto è stato condannato in primo grado alla penna di anni 12 di reclusione e alla misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni, in ordine al reato di concorso esterno in associazione mafiosa. La seconda è stata in fece condotta dal locale centro operativo della DIA di Reggio Calabria nei confronti di un articolato sodalizio criminale, dedito alla commissione di gravi delitti, tra cui a vario titolo, quelli di associazione mafiosa, riciclaggio, autoriciclato, finalizzata all'emissione di false fatturazioni, con l'aggravante per alcuni di essi, del metodo mafioso. L'attività è stata conclusa nel 2018 con l'esecuzione di provvedimenti restrittivi personali nei confronti di 27 persone, nonché di provvedimenti cautelari reali nei confronti di 51 società anch'essere, beni mobili e immobili e disponibilità finanziarie per un ammontare complessivo stimato in circa 119.000 euro. Nel mese di ottobre 2019 la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria ha disposto di conseguenza il sequestro del patrimonio riconducibile al citato imprenditore e successivamente, riconoscendo la validità dell'impianto indiziario con il provvedimento in esecuzione, ha decretato allo stato del procedimento l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca dell'intero compendio aziendale di 7 tra imprese e società commerciali. Con il medesimo provvedimento, il locale tribunale ha sottoposto l'imprenditore alla misura personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di tre anni, con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale. L'attività di servizio e rassegna testimonia l'elevata attenzione rivolta all'individuazione e alla conseguente aggressione dei patrimoni e della disponibilità finanziare illecitamente accumulati, con l'intento di ripristinare adeguati livelli di legalità, trasparenza e sicurezza pubblica.